L'epilogo ha il sapore un po' amaro, ma il bilancio del campionato non può che essere positivo perché dopo le ultime due stagioni tribolate il Terramo aveva già centrato l'obiettivo vitale, cioè la salvezza, in anticipo. Lo 0-0 del Bonolis invece fa sorridere la Ternana che chiude undicesima grazie allo stop interno dell'Albinoleffe con il Vicenza, posizione che potrebbe valere i play-off a patto che mercoledì il Monza vinca la Coppa Italia contro la Vitermese. Il rammarico dunque è che al posto dei rosso-verdi poteva esserci proprio la squadra di Maurizio, qualora la gara fosse terminata con un successo bianco-rosso. Non è stato così, ma gli applausi sono tutti per il Terramo che nel secondo tempo ha creato alcune ghiotte occasioni per segnare a fine gara il pensiero del presidente Campitelli. Siamo stati bravi perché abbiamo fatto tanti punti, 43 punti ne sono tanti, ci siamo salvati, abbiamo un bel gruppo di ragazzi, dobbiamo eroggiare anche il mister perché ha fatto un grandissimo lavoro e il suo lavoro si sta vedendo di partita in partita, quindi bravi a tutti, bravi alla società perché ha avuto la forza a gennaio di mettere dei pezzi importanti in questa squadra che molte volte quello che fa la società non si vede mai perché è tutto dovuto, è tutto normale, invece credo che la società anche lì ha dimostrato di tenerci per questi colori, di non voler retrocedere, di lottare fino all'ultima giornata e noi ci siamo salvati prima dell'ultima giornata. Io del futuro parlerò tra qualche giorno, in questo momento assolutamente di futuro non se ne parla proprio. La partita, termo incerruttato, Maurizzi deve rinunciare ai vari Barbuti, Celli, Gomis, Mantini, Persia, Speranza, tutti infortunati e allo squalificato Spighi. Come se non bastasse Armeno, Piacentini e Spinozzi sono seduti in panchina perché non al meglio della condizione. Il tecnico così vara un 4-3-1-2 con K dietro la coppia d'attacco formata da Infantino e Sparacello inserendo Altobelli terzino destro. La Ternana è praticamente al completo, ad eccezione di Altobelli, squalificato con il consueto 4-3-3 proposto dal tecnico Gallo, arbitra Lorenzin di Castelfranco Veneto. Nel primo tempo, avete già visto le immagini salienti, non accade nulla anche se al 37esimo il Teramo potrebbe sbloccarla con Infantino. L'attaccante è pronto, la deviazione sottoporta su invito di Sparacello, gran riflesso di Iennarilli che salva. Di tutt'altro tenore la ripresa. Inizia meglio la Ternana che al terzo con Paghera scheggia il palo. Poco dopo ancora Rosso Verdi in avanti con una conclusione dal limite di Pobega. Pacini si allunga e sventa, poi l'arbitro fischia un fuorigioco. Da qui in avanti soltanto Teramo. Diciottesimo, gran triangolo, proiettì Sparacello, traversone teso e forte in mezzo, un difensore libera nei pressi della linea bianca. Un minuto dopo ancora Teramo con una conclusione fuori bersaglio di Infantino, sale la pressione dei biancorossi, Ternana un po' sulle gambe. Ventesimo, De Grazia sulla fascia sinistra, invito per Infantino che riesce ad anticipare il difensore ma colpisce male da pochi passi. Il Teramo non demorde e sugli sviluppi di un corner Fiordaliso impatta bene ma Iennarilli è insuperabile. La Ternana prova allora ad alleggerire la pressione con qualche conclusione da fuori o con palloni gettati in area biancorossa. I minuti scorrono, il Teramo vuole vincerla per chiudere in bellezza e preme fino alla fine. In pieno recupero Infantino si mette in proprio. Serpentina strepitosa, il giocatore parte dalla tre quarti, sfonda centralmente ma davanti a Iennarilli incredibilmente non inquadra lo specchio. Un brutto errore certo ma va detto che dal suo arrivo a gennaio è soprattutto grazie alle sue reti che il Teramo si è salvato. Maurizio, qual è l'immagine, la cartolina che il tecnico conserva di questi mesi alla guida della squadra? Il Gran Sasso. La neve sul Gran Sasso, un freddo. Quella sportiva? Quella sportiva che abbiamo ottenuto una grande salvezza, è coronata anche da un finale abbastanza importante che poteva anche finire con un altro modo. Però siamo arrivati veramente corti, come avete visto oggi anche Nebili si è fatto male, quindi abbiamo avuto tanti fortuni, abbiamo stretto i denti tutti. Quindi noi dobbiamo tenere presente queste cose che se a Terni esultano per aver raggiunto la salvezza, adesso per aver raggiunto i playoff, in altre parti d'Italia, Albino Leffi, che ha una storia alle spalle, festeggiano in maniera esagerata. Vuol dire che noi dobbiamo essere soltanto stracontenti di aver fatto quello che abbiamo fatto perché non era semplice e a posteriori è tutto più facile. Ma io credo che quattro settimane fa stavamo qui a farci addosso perché era difficile mantenere la categoria.